Si chiuderà domani la settima giornata di andata per il massimo torneo regionale. Il programma della domenica prevede quattro gare, tutte con fischio d'inizio alle ore 15. Riflettori puntati sul Castaldi di Rocca Ravindola, dove sarà big match tra Rocca Sicura e Treppini Matese. Uno scontro tra due corazzate che grazie agli ottimi risultati conseguiti si sono guadagnate un posto di diritto nella parte alta della graduatoria. È la formazione di mister Camorani però a detenere il primato. 18 punti in sei giornate, fino ad ora non c'è stato avversario che sia riuscito ad interrompere la serie di successi. Di certo il Rocca Sicura è un avversario alla loro altezza e darà del filo da torcere ai casertani. Gli undici di mister Bonomi a 13 punti sono reduci infatti da tre vittorie consecutive, l'ultima conquistata contro il Gambatesa per 3 a 1 e scenderanno in campo con l'obiettivo di far capitolare la prima della classe ed accorciare così la distanza dalla vetta. Rocca Sicura-Treppini Matese, una sfida dal difficile pronostico, ma che sarà indubbiamente pirotecnica agli occhi dei tanti tifosi che accorreranno per sostenere le due squadre e ovviamente per tutti gli appassionati di calcio regionale. A dirigerla Giuseppe Morello della sezione di Tivoli. Gara casalinga per il Termoli 1920 che al Gino Cannarsa dovrà vedersela contro Lisernia. Sembrava che gli adriatici avessero raddrizzato il tiro, ma a fermarli nuovamente è stato domenica scorsa il comprensorio Vairano, formazione davvero ostica contro la quale i giallorossi nulla hanno potuto. Questa volta tra le mura amiche, mister Ruffini schiererà i suoi contro i biancocelesti che dopo un paio di battute d'arresto sono tornati alla vittoria, aggiudicandosi di misura il match contro il Campobasso 1919. Sia il Termoli che gli uomini di mister D'Ambrosio, attualmente posizionati nella parte centrale della classifica, puntano a fare risultato e ad accantonare quell'andamento altalenante che li ha caratterizzati in queste prime battute di gioco. Fischietto designato Marco Aurisano della sezione di Campobasso. Di scena al comunale di Capriati a Volturno, Aurora Capriatese polisportiva gamba tesa, una sfida che sulla carta si preannuncia equilibrata, considerati i sei punti di entrambe. Tuttavia bisogna registrare per i padroni di casa un positivo cambio di rotta. Dopo un esordio in eccellenza non dei migliori, i ragazzi di mister De Rosa sette giorni fa si sono imposti con un bel 4 a 1 sul Pietramonte Corvino e questo secondo successo consecutivo fa ben sperare. Bilancio diverso invece per la rosa fortorina. Dopo il tonfo interno contro il Rocca Sicura, i ragazzi di mister Arciuolo sono in cerca di riscatto e dovranno tirar fuori grinta e determinazione per non farsi sfuggire altri punti importanti. Aurora Capriatese e gamba tesa sono chiamati ad un impegno massimo nell'incontro vagliato da Michele Matarese di Termoli. Il quadro si chiude con Alife Boiano, che si affronteranno allo stadio Italo Pastore di Castello del Matese sotto la direzione di Domenico Petraione di Termoli. Entrambe le formazioni gravitano nei bassi fondi della classifica. Alife, fanalino di coda, non riesce ancora ad abbandonare lo zero ed il Boiano con il KO inflitto dal Baranello nel recupero di giovedì resta fermo ad un punto. Tutte e due devono darsi una scrollata e crederci fino in fondo per far sì che quella di domani sia finalmente l'occasione giusta per sbloccarsi.